Crescita e inflazione deboli spaventano il direttivo della Banca Centrale Europea, il quale dal vertice in trasferta a Malta apre la porta a nuove misure espansive. La mossa potrebbe arrivare già a dicembre, quando, a detta di Mario Draghi, l'Eurotower riesaminerà la sua politica, ivi compreso l'attuale piano di acquisto di titoli da 60 miliardi di euro al mese. La domanda interna nell'area dell'euro non dà segni di cedimento, ha sottolineato Draghi, ma, ha aggiunto, i timori per le prospettive di crescita nei mercati emergenti e le possibili ripercussioni delle oscillazioni nei mercati finanziari e delle materie prime continuano a rappresentare rischi a ribasso per le previsioni di crescita e inflazione. Quest'ultima è oggi in territorio negativo, lontana anni luce dall'obiettivo del 2%, colpa della debolezza delle materie prime e in particolare del petrolio, anche se i prezzi dovrebbero cominciare a riprendersi a fine anno. Pur aprendo a possibili aumenti o estensioni del programma di allentamento monetario oltre settembre 2016, la BCE vuole prima analizzarne l'impatto effettivo, con un occhio anche ai tassi sui depositi che potrebbero scendere ancora.